bella a tutti ragazzi io sono Alex io sono Gizius io sono Pino e che ora è? è mezzanotte prossima tipo siamo qua a mezzanotte e quindici mezzanotte e quindici perchè noi abbiamo detto giochiamo a minecraft a quest'ora ehm... bene adesso faccio veloce magari sono muri tipo vedi mezzo abicinato no intanto non c'ho un cazzo adesso a vedere veloce cosa ho fatto allora ho fatto questa qua che è tipo un'entrata c'ha la zi viagra perchè Abbi voleva fare viagra ho capito ok questo era quello che c'era fuori praticamente la mia miniera la sua miniera l'ho ricostruita cioè l'ho messa l'ho integrata nella casa l'ho fatto con aria in aria e vetro ma è afficato guardalo cioè è mentato non commentare il mio stile commentate voi e siccome non era simmetrico la casa l'ho fatto di tre scalini invece di due perchè la simmetria è perfezionale la simmetria è ok questo l'avevate già visto ho messo solo a posto un po' le cazze vabbè un po' la cosa vabbè torna là dove? lì quella porta stio chiudo che ti fulvio ah ecco ho messo questi qua tipo cestini cioè sono hopper no hopper si chiama che praticamente butto le cose vaffanculo guarda che torno eeeh questo l'avevate già visto no? le casse ho messo un po' le casse guarda il lato gioielli poi se l'ascensore guarda il gioielli guarda il gioielli e no aspetta voi è qua no ah si è qua l'ho messa lina in qua ok cioè l'ho ancora piazzata no no l'ho ancora piazzata perchè volevo aspettare qui si sta ah si è fantastico e si bug no e si bug quegli alberi non li ho tolti non li ho tolti non li ho tolti il nostro cavallo il nostro cavallo è sempre li e sono riuscito a catturare anche due si chiama quelle in merda osalot osalot che faremo diventare gatti perchè i gatti sono fighi si si questo guardate che figata c'è 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 vabbè perchè portare simmetrico non si può forare che si può fare? io ho fatto il suo messa eh no non si può fare mai in xbox a dove qua si entra ma non entro perchè muoio però abbiamo già fatto la protezione insieme ad archisius cioè l'ha fatta lui kawaii l'ha fatta lui perchè io morivo e mi sono fatto anche 20 livelli nel frattempo che ci susserò ma che cazzo hai fatto a fare 20 livelli? eh nel frattempo che ci susserò e' un consegno che vi do e' dormire nel nero perchè hai sex no 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 fermi per questa cosa l'ho detta io loro non lo sapevano dopo lo andiamo a fare posso entrare? ora potete entrare nel mio mondo mi manchia zi cos'hai fatto? non lo so albi chi è che è entrato? chi è questo? è Rambo è Rambo si si sei Rambo sei Rambo albi vai vedere chi sei tu albi anche io so chi sono è così io so che io so il viagra mezzo il viagra io sto saltando eravamo stato lo saltando ok ee credo che tipo durerà fino alle 3 di notte ma non abbastanza abito a ma se mi butto giù da qua muoio però hai 20 livelli fai tu? no ma fai culo ma hai le libri di A? mi serve a fare l'Enchantic e ma hai le libri di A? e adesso allora quello che volevamo fare in questa puntata era proprio creare la stanza a librerie Enchantic wow quindi Ale non so dove siete dove sono sette? cosa sei tu? ciao allora e ora andremo a fare la stanza adibita a libreria si 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 ho consumato tipo due stacchi su cosa o ancora due di legno di legno io non ho un bordello di legno io ho due legno due stacchi a mia vita se no di lungo perchè? ah perchè c'è già su qualcuno non c'è su nessuno Ale è vero no no oddio che bonito che tasti bisogna prendere? figa questa è tipo la stanza no? iniziale con quattro porte una ti porta ehm una ti porta al no ascoltami ascoltami è una figata una ti porta al nether una all'incudine c'è una nell'inferno l'altra è la stanza della conoscenza l'altra è la stanza della forza una della cosa delle librerie e l'altra del come si chiama? incantesimi eh no come si chiamano? eh librerie guarda che c'è le bolle le ampolle le magie ah si ok si ho un po' la lingua non è solo inutile a sto gioco ehm cosa mi state mettendo dei blocchi? cioè io mi sono prendendo la droga ma perchè i blocchi dall'entrata del nether? è la stanza iniziale dopo faremo l'entrata guarda l'altra porta io ve lo dico solo qui semplicemente a farmi una sega qua il personaggio no si guarda io ma io c'ho la laccetta in ferro che cazzo guarda c'ho la laccetta in ferro io gli spacca la mano alla ceca e poi blocca l'entrata ah le guarda oh oh scusa Simo togliti da cazzo le metti da cazzo le metti da cazzo ahhh cosa stai facendo Simo? è un buttato giù ha buttato giù Pino no perchè le gui non buttare giù Pino che c'ha 20 livelli ti giuro no non c'ho neanche l'armatura perchè non l'ho presa cioè vuoi tipo uno stato di legno di dio si di domandola le porte? le porte le vuoi? ti dò tutte le porte due porte c'ho eh eh va bene il vetro dove vuoi che lo metti il vetro? lo metto in curva? scherzo no scherzo no scherzo arbitralizia lì devo mettere il blocco ok ti lo vado a precipitare giù prima quindi non ti prendi allora ma stai posso buttarti giù penso che ci incazzi abbastanza si davvero c'ho 20 livelli pensi che mi hai fatto qualcosa e dopo te vuoi rifarli incudine aspetta di spaccare lino io sto facendo la stanza diciamo dove la fai? di qua perfetto aspetta di qua facciamo l'incudine di qua le cos'è? l'ampolla è tipo quella l'anvil si chiama l'anvil si esatto oh giuro sei una fabbrica di pitti di porto da voglia io faccio le porte intanto intanto vi guardo ok tu continua così esattamente come come stai facendo ora scherzo 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 è le librerie Ale sai che potrei fare noi guarda quando sei dietro no quelle porte devo fare uno due tre quattro cinque sei non fate cazzo non fate cazzo che senso sono nascosto cazzo Ale c'è il name tag Albi c'è il name tag sopra si e poi sei qua sono nascoste da l'anvil in pulizio allora vediamo se è simmetrico vai simmetrici come un cazzo ci sono due blocchi ma no ma santo una pettata di fabbrica una una WTF allora non devi fare tutto simmetrico te le do io le tolge ho sempre la tolge guarda 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 basta 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 dove sei Ale? falla ancora Ale dove sei Ale? dove sei Ale? vomita 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 torce basta di agarmi adesso metto acqua ooooo ok la tolgo no no ma perchè poi c'ho un secchio d'acqua io ma il crafting table è tipo necessario per salire è necessario legno legno Ale faccio io da palo Ale legno legno ma non è un po' basso come tetto scusatemi vale tetto e quello è stato buttando il vetro a cazzo il mio tetto e vale che no è così che si fa muovi qualcuno mi scechi mi si è passato attraverso come ti sei permesso infame ho metto ho pochissimo vetro albi vai a farlo colciano sabbia non c'è voglia non c'è voglia vai a farlo colciano sabbia anzi useremo col vetro tetto no 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 non farlo ecco non farlo più ma anche il sogno di agrone ce la faccio ma no e fa schifo così se faccio il tetto solo di legno e infatti foglie non c'è adesso non c'è io prendo l'accelino e poi brucia bene non cazzo di tetto di foglie non cazzo di foglie vuoi farlo qui insieme a me ti dò un po' di foglie no no non c'è ti dò un po' di foglie albi non c'è aspetta vieni su volete adesso aspetta aspetta che faccio una una scala una scala con un blocco di legno vieni qua vieni su ritorno sul vetro ritorcato dopo il librile messi tu ah no guarda guarda e' già niente e' niente e' niente di tutto ben ducato però si vede perci per i pochi per te no prima del liberio tipo uno stu come la mia mente in cerchio chi non sembra che la pittura di sanio questo secondo domenica di sanbo no per me è tipo questo spostato non lo fa va a finire a livello 9 cos'è? aspetta un attimo non ho finito cos'è questo coso? è la stanza di enchanti no questa cosa in mezzo è l'enchanti in tempo è figata albito ti facciamo vedere enchantiamo un pene no cazzo provo a vedere quanto ti dà adesso di livello no perchè a venti vitro ho sbagliato 18 ti vedo la sesta alb vieni ad aiutarmi no perchè hai tolto questo blocco aspetta ho sbagliato qualcosa alb vieni ad aiutare a mettere le foglie cosa? per me ti ho detto che questo va qua e col piccone scusami col piccone di ferro lo toglio vabbè abbiamo un set a diamanti giù ah però non c'è per l'ossidiana 6 o 22 oh merda aspetta aspetta facciamo un cambio hai un piccone in ferro perchè? perchè vado in un'aneda ti raccoco un po' di quarzo e lo faccio subito oppure del carbone in miniera hai un piccone? ma mori in un'aneda è un piccone allora miniera vai a raccogliere del carbone del carbone in miniera venite dove sono io e guardate in alto ok e voi direte non c'è nulla no aspetta squid 0 0 vieni qua dove sono io subito venite e ora guardate in alto in alto dove? no non acqua ecco infatti no 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 sono un genio sono un genio sono un genio